Posso muovermi due! Ehi amico, siamo tornati normali! Già! Il Natale dopo! Oh ma dai, oh ma dai, posso muovermi? No no no, no no, no 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 no! Oh ma dai, oh ma dai, posso muovermi? No no no, no no no, no 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 no! Oh 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 ma dai, devo andare a distribuire i regali! Ma sei, ma non sei il Babbo Natale? Ah ah ah, già 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 già! Comunque posso muovermi? No no no! Oh ma, oh oh ma dai, posso muovermi? No no no, no 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 no, no 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 no, non puoi muoverti! Eh ma allora, per forza, deve essere così! No no no, no 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 no, no 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 no! Oh ma basta, io mi voglio muovere! No no no, no 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 no, no 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 no, no 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 no! Ma ti stai già muovendo? Ah, già non lo sapevo Ah, 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 lol No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh, ma allora basta Babababasta Tieni Ciao!